ciao a tutti allora direi che ormai ci siamo manca pochissimo questa nuova edizione del giro del friuli venezia giulia per per dilettanti un'edizione speciale particolare credo sia importantissimo riuscire a portare avanti questa questo evento anche in anche in questo anno così speciale e grazie agli amici del del ceresetto questa cosa è possibile e ci sono tutti gli ingredienti per per avere una grande edizione quattro tappe belle equilibrate e complete dure insomma c'è tutto tutto quello che serve per una grande edizione e vi invito vi invito a seguire a seguire tutte le tappe a partecipare a tutte le tappe mi raccomando rispettiamo le regole e andiamo a goderci questo questo giro del friuli ciao